dunque here's the boss so let's begin avete aggiustato la sedia? entrambi i cittadati teoricamente lo so che son cretino lasciami parlare ho deciso a mamma non lo posso dare tu stai zitto che ti taglio le dita ed è completamente pazzo infatti lo affronterai si Duncan però non ti ho nominato per fare il cacassotto si inizia a starmi veramente sui coglioni uomo dei verbi sei un po' troppo sicuro di te stesso comunque e che ci spavano bisogna prendere un approcciato milord signori non avranno successo non avranno successo no è dura far democrazia in 5 no 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 ecco siamo gli unici ad avere questo legno ferro combatteremo un giorno un giorno avrò la barba anch'io come tutti voi e riempiamo una zona precisa di benzina e riempiamo una zona precisa di benzina forse è meglio Duncan forse hai detto una roba curva inviterò Ramsay nella sala grande ci saranno 180 persone a difendermi e non vedo che Tuttle sta guidando è sufficiente Roiland il lord Ethan ha dato la sua domanda quanti anni ho servito questa casa non posso ascoltare a questo uomo di idiota più scusami scusami mio lord ma tu non sei ma tu non sei ma tu non sei ma tu non sei pronto a morire per farci un dito te lo prenderei già solo perché facevo le cover dei ram nel bosco con gli uto non vuol dire che non sia pronto poi se tu hai i geni della famiglia degli stronzi è chiaro che non puoi comandare grazie mamma grazie zio non mio te non ti ringrazio via via devo pensare devo comporre un attimo ho pensato male se Roiland ti tira una coltellata nella schiena chiamiamo Dorne qui prego a me va benissimo ah però mi giuro al posto e non ho risposto perché io clicco mentre scade dovrebbe darmela buona perché mi ricordi il bullismo per distruggermi psicologicamente non è che fosse un pronto istinto ribadisco e vuoi che minciuli il posto con le qualità ma non hai l'angere dentro te e non mi piace ma non ho bisogno di essere no ma hai bisogno di qualcuno che è stando dietro mi fallo venire comunque più che altro perché voglio conoscerlo sì se dobbiamo morire è meglio che moriamo tutti vai zio mio sì disegno vestiti anche ma non t'azzardare a mettermi i piedi in testa mamma l'eccitante vita di approdo del re cos'era un timbro quello ah strana chiave esame strana chiave più pericolosa potenzialmente credo ma marjorie ancora tu che vuoi e non voglio sapere cosa stanno facendo grazie grazie pensi che siamo amici neera quando mi la domanda non mi chiedevo non mi chiedevo non mi chiedevo non mi chiedevo mesi per anni e ancora non mi chiedevo così scusa scusa sara non mi chiedevo beh sì mi chiedevo c'era sono nella capitale ho capito come funziona qui si vede che è uscita da joffrey e ha una faccia un alore di morte addosso grazie ha imparato ma guarda se no 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 Ah, io non ci parlo con lui. Cerchiamo di stare in tutte le scarpe, potenzialmente. Eh, ma noi avremo una certa urgenza, tipo nell'ordine delle 24 ore. Io però ho un timbro. Posso vandalizzarle la stanza con i timbri. Quanto tempo stavi qua a origliare? Miserabile! Non tanto. Stavo passando quando vedi che ti esercizi da casa di Marjorie. Perchè? Perchè? Il columb al mattino, lo leggo, prima della pausa pranzo. E ti farò sapere. Persone che? Chi sta parlando? E ridagli, sbirciano. E ti va a fare i tuoi. Eh, se n'è andato. Eh, ma se torna gli taglio dei pezzi, eh. Ok. Moriremo tutti. Moriremo tutti. Ciò non toglie che moriremo tutti. Salsiccia? L'abbiamo preparata. Perchè dovrebbe essersi un liceo? Perchè dovrebbe essersi un liceo? Cicciotto nel videogioco. Non dà la mano. Non dà la mano. Oh, lo apprezzerà tantissimo. E' un casino fare i rami. Beh, nessuno è più abile di noi. Stranamente. Visto? Ma va dappera un pochettino. No, no, no. Non ci provare neanche. 185! Dirò. Da parte che lui non è qui. No, no, no. Con calma. Eh. No. Molto più carismatico il padre. Tu impara un po' di dizione, va? Non c'è nessun pochettino. Grazie Non lo sappiamo Era giustificato Era stronzo E questo è già un no Questo è già un no Tante ricette Con quelle facce Io non gli darei neanche quello Il sottotitolo era uguale C'erano risposte più efficaci Sarà brutto come il padre Vedere Vedere Di che non è il baffo fantasioso Di che non è il baffo fantasioso Hai più che altro infastidito Se abbiamo in cantiere un disco insieme Perciò non puoi uccidermi È tutto da vedere ancora Ho mai avuto una sorella Non ho mai avuto una sorella Ehi ma Però Si è partito male Ethan No 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 Potrebbe essere più creepy Non credo No Dunque Non è andata benissimo Cioè Mi sono rimasto sorpreso La mia storia è già bella che è finita Sono già morti in 70.000 Non credo che Ci possano essere molti risvolti Almeno da parte della giovane rock star Ethan l'ha preso nel culo È diverso Eh Io direi Ethan the Brave For 45 seconds Cortina d'ampezzo Casablanca Io confido molto nell'omino che abbiamo mandato a Esther Che torni e scateni l'apocalisse Il povero pirla Ero io fino a poco fa Pensavo di essere meravigliata anche bene Invece Uffa I Bolton Che a me piacciono Ma evidentemente piacciono più Quando io non ho a che fare con loro E quando torturano i Greyjoy Preferisco di gran lunga quello Tu e il 45,8% dei giocatori Hanno lasciato Bowel indietro Cioè quello della prima parte Lo scudiero dell'altra famiglia Beh era la cosa giusta da fare Tu e il 69,2% dei giocatori Hanno dimostrato lealtà al re Per furbizia Mi auguro Tu e il 18,1% avete preso Beh Ecco per cosa verrà ricordato Ethan Io più che il coraggioso Avrei preferito chiamarmi Ethan il tagliatore di dita Sarebbe stato un nome più bello da scrivere su un libro di storia Avrò un paragrafo di quattro righe Porca miseria Tu e il 62,9% hanno scelto Duncan come sentinella Bene Vedo che Sperando che ci porti fortuna Mi sembrava comunque la persona più diplomatica delle due Per quanto possa funzionare Essere diplomatici Che fine ha fatto quell'altro Perché non si è presentato? Stronzo maledetto Tu e il 59,7% avete incontrato Ramsey Nella grande hall Vedo che Ha portato a conseguenze divertenti Che bella faccia Ok Sarà d'ora arrivare in fondo a questo gioco Ringraziamo il team Super Games Che ha tradotto questo gioco Ha fatto in fretta Ed è stato molto attento Ho del lato di qualche piccolo svarione Ma so che lo hanno già corretto Con una nuova patch E la traduzione del secondo capitolo È già all'altezza Ho mai titoli Se c'è qualcuno che ricordo Kyle Chagard Ryan Weller Ryan Rebott Carnabucci Ma chi è? Min Fu Patrick Jensen Patrick Jensen Sgro Jonathan Sgro C'era già? Nick Mastroianni Il figlio d'arte è tornato C'è una certa Rosemary Megan Thornton Megan Thornton Arton Bornegel Sean Shane Sean Shane Chiamerò mio figlio Sean Shane Gregor Masto William Chris Murray Dove le prendono la teltè? Julian Kvaznensky Jeremy Saul Tim Galida Ma le conosco Gli attori le conosco Grazie Kevin Brunner Michael Schwarz Patrick Algemissen Ringraziate gli animaletti Anche stavolta Ma che tristezza però Tristezza così Amy Bautista Al nome di un premio E di un lottatore di Smackdown Credo Playtesters Coloro che hanno saputo Per primi La tragedia Ikumisato Jeff Sinclair Ha cambiato parecchio Nel team Però Non mi conosco quasi nessuno Alice White Frank Gore John Thornton III Nella casata Thornton Sean Bean Ho letto Sean Bean Ho letto Sean Bean No Non l'ho visto Non l'ho visto Sean Bean Ma ho letto Sean Bean Dov'era Sean Bean? Toto Odo del Dirkorg È un corgi Però ho letto Sean Bean Anche Katie Bean Ma Katie Bean è meno forte di Sean Bean Sean Bean Dov'era? Dov'era? Dove sarà? Voglio un'apparizione fantasmatica di Sean Bean In stile pasta frolla E voglio anche quella Ma so che quella arriverà No grazie Frega cazzi Ho visto abbastanza Accidenti Sarà dura Sarà dura Sarà dura Tanta gente ancora morirà Povero Ethan Era un pirla Ma gli volevo già bene Ciao amici di YouTube Arriverà presto un secondo episodio Già tradotto Sembrava diversissimo nel dipinto Sembrava diversissimo nel dipinto Sembrava diversissimo nel dipinto Omufi dipinti ㅋ